Ciao a tutti, bentrovati nella nostra consueta rubrica di libri. Oggi parliamo di questo romanzo un po' particolare e anticonformista, Dieci vite in una di Gérard Journaux. È la storia di una donna, una donna le cui vicende si dipanano tra Budapest, Parigi e Roma, una ballerina del Crazy Horse che negli ultimi anni di vita a Roma, alla veneranda età di 94 anni, decide di raccontarsi attraverso appunto la voce dell'autore che cerca di immaginare una sorta di testamento spirituale di questa donna che ha vissuto tutto. Una donna che è riuscita a sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale, a abbracciare gli anni più sensazionali e belli di una Parigi post-guerra e che si racconta con un pizzico di nostalgia una donna diversa dalle altre che appunto ha vissuto quasi dieci vite in una sola.